Oltre 2.500 cavalli di 60 razze, 4 giorni a tutto cavallo alla Fiera di Verona, che ha in calendario più di 200 iniziative tra le più varie, tra spettacoli, convegni, concorsi e gare sportive. Questa forse è la fiera più complessa da organizzare, qui abbiamo in questo momento ospitiamo più di 2.500 cavalli di 60 razze diverse, è diventato il quartiere di Verona Fiera il più grande e il più variegato maneggio al mondo, dove si possono esibire tutti questi animali di così tante razze diverse, a disposizione di un pubblico che ci vuole bene e come ogni anno arriva in massa qui a Verona Fiera per vedere tutte queste esibizioni organizzate da uno staff che ha lavorato per 365 giorni all'anno per presentare oggi una fiera con questi numeri che sono davvero imponenti. Un comparto che vale quanto? Un comparto che vale quello del settore equestre italiano che vale 3,2 miliardi di euro, dunque una parte importante del pile italiano, ma un comparto anche che vuole crescere, è un comparto che può crescere se sostenuto adeguatamente. Noi come Verona Fiera siamo qui anche per aiutarli attraverso questa fiera a cavalli a promuovere sempre di più questo settore che cresce anche nel turismo, nell'ipoturismo, dunque nella voglia di stare all'aperto di tante famiglie che hanno riscoperto la voglia di stare all'aperto dopo le chiusure Covid del 2020-2022 ed ora dunque è un settore che sta davvero pensando a fare un salto di qualità importante. Una fiera comunque che è una tradizione per la città, insomma comunque per il paese, ma c'è ancora qualcosa di nuovo da vedere? Se le dovesse convincere qualcuno? Ma allora ci sono sempre tantissime iniziative ogni anno, questa fiera è riuscita a imporsi sulle altre, diventare appunto un punto di riferimento per il mondo equestre, non solo in Italia ma in Europa e nel mondo, perché ogni anno sa rinnovarsi, sa portare idee nuove, sa portare grandi novità. Quest'anno la novità è sicuramente anche collegata con la città di Verona. Verona è riuscita a ottenere un riconoscimento importante, è la prima città patrimonio dell'UNESCO che è riuscita a ottenere dei fondi per creare delle ipovie urbane che saranno realizzate nella nostra città, dunque che andranno a aumentare l'offerta turistica ovviamente della città di Verona, ma che dimostra anche come la città di Verona sia sempre vicina, un segnale molto importante a tutto il mondo del cavallo, dunque Verona città del cavallo sicuramente.